benvenuti a cucina del gatto oggi vedremo come realizzare un facilissimo ma gustoso piatto freddo la mozzarella con l'alici ma vediamo gli ingredienti una mozzarella quattro filetti di alici olio extravergine d'oliva prezzemolo pepe facciamo scolare la mozzarella scoliamo anche l'alici con un coltello tagliamo grossolanamente il prezzemolo in un piatto tagliamo la mozzarella e delicatamente rispondiamoci sopra le alici lo armiamo con le foglie di prezzemolo un giro d'olio e una spolverata di pepe ottima accompagnata con le melanzare a funghetto è un piatto buonissimo ma attenzione alle quantità perché non è un piatto light se la ricetta vi è piaciuta clicca su mi piace e iscriviti al canale alla prossima ricetta del gatto ciao 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 Grazie a tutti.